E alla fine anche la CGL ha rotto gli indugi raccogliendo il malessere di numerose associazioni e ha deciso di schierarsi contro il progetto Multi Utility che è già partito in Toscana e che vede come capofile i comuni di Firenze e Prato in una nota diramata. È stato proprio il segretario provinciale Alessandro Tracchi ad anticipare che presto ci sarà un convegno in materia. Il nuovo soggetto che disce i servizi per l'energia, acqua e igiene urbana deve restare pubblico, sottolinea Tracchi, non può finire a piazza affari. I nuovi investimenti, i livelli occupazionali non possono essere decisi in poche stanze. La CGL ha trovato una valida spalla in feder consumatori per questa battaglia. Nei giorni scorsi ad esprimersi contro il progetto che vede coinvolto anche il Comune di Arezzo è stato Gianfranco Morini del Comitato Acqua Pubblica che già a suo tempo ha criticato le scelte del Comune di Firenze che ha dato la proroga della concessione del servizio idrico a Pubblicacqua criticando i sindaci PD di Firenze, Empoli e Prato. Morini ha elogiato quei sindaci che hanno detto di no anche al progetto presentato da Alia che ha visto il parere contrario di sette amministrazioni locali tra cui Cavriglia e San Giovanni Valdardo.